Nell'ambito delle attività previste dall'iniziativa Unicam City, competenze trasversali, grande successo hanno ottenuto i seminari sulle tematiche della gestione dell'innovazione e dell'autoimprenditorialità, tenuti da Simona De Simone e Stefano Belardinelli dell'International and Industrial liaison office di Unicam. Tutela della proprietà intellettuale, brevetti, redazione di un business plan, modalità di fundraising, sono stati questi alcuni degli argomenti affrontati nel corso degli incontri che hanno visto la numerosa partecipazione degli studenti Unicam. È stata poi la volta del laboratorio di comunicazione multimediale, tenuto da Mattia Crivellini, anima dell'organizzazione di Fosforo, il festival della scienza di Senigallia che ha illustrato agli studenti Unicam alcune tecniche per essere in grado di poter comunicare al meglio il frutto del loro lavoro di ricerca scientifica. Per conoscere nel dettaglio il calendario di tutte le altre iniziative in programma basta consultare la pagina dedicata ad Unicam City nel sito www.unicam.it.